10 giorni di chiusura nel mese di agosto per permettere urgenti lavori di ribitumazione e tamponare il problema lagamenti, ma a distanza di esattamente un mese, dopo la prima forte pioggia settembrina, nel mercato ortofrutticolo di Andria si ripresenta l'identico problema con la beffa per gli operatori di aver perso 10 giorni di attività nel mese di agosto. E questa è in sintesi la denuncia che arriva dagli operatori stessi del mercato ortofrutticolo. Un viaggio tra la frutta e la verdura in una piscina, più che in un piazzale da poco sistemato. Il problema in particolare, ci spiegano gli operatori stessi, sta nelle pendenze contrarie del piazzale. Nella struttura di via Barletta, infatti, l'acqua non converge verso l'esterno, ma verso l'interno del mercato, creando poi l'effetto inondazione filmato. I disagi nel mercato ortofrutticolo tuttavia continuano ad animare le mattine degli operatori, che continuano a lamentare le tante mancanze di una struttura, punto di riferimento per l'intero territorio del norbarese ed oltre.